I amanti dell'arte ben ritrovati. Il dialogo tra le diverse espressioni artistiche è sempre stato oggetto di studi di fascino. Oggi pertanto voglio prendere in considerazione la pittura e la scultura che mutuano l'una dall'altra i principi della propria tradizione. La scultura guarda la pittura sicuramente nel ricorso al colore senza dimenticare che se il colore è vita allora la vita vissuta in un determinato periodo storico detta il colore e poi lo scultore cerca di donare alla materia quell'effetto di leggerezza e di movimento. Ad esempio nell'ottocento il divario tra pittura e scultura aumenta. La pittura ha sempre diverse proposte impressionismo post impressionismo infine il simbolismo e la scultura? E la scultura resta indietro in particolar modo in Italia dove la statuaria e il monumentalismo rendevano marcato questo distacco proprio per le caratteristiche passatiste del suo linguaggio. E' interessante la sfida lanciata da Baudelaire al Salon del 1846 nella quale il poeta evidenziava la non assolutezza della scultura che al contrario della pittura come diceva proprio Baudelaire mostra troppe facce in una volta ed è brutale e positiva al pari della natura ma insieme vaga e intangibile cosa omigliante per l'artista e accade spesso che un movimento di luce riveli una bellezza diversa da quella a cui egli aveva pensato. E continua dicendo Baudelaire un quadro è solo unicamente ciò che vuole essere. La pittura ha un suo punto di vista esclusiva e dispotica e per questo l'espressione pittorica è tanto più forte. Ora secondo il poeta la scultura di quel periodo versa in uno stato pietoso ridotta d'arte da salotto. Voi appassionati di arte avrete notato come in molti libri di storia dell'arte spesso manca proprio la scultura italiana della seconda metà del settecento e di tutto l'ottocento e comunque dopo la morte di Canova ci si chiede chi viene dopo Canova in Italia? Silenzio profondo e lo posso capire. Vi sono scultori dimenticati dai critici purtroppo colpiti dall'adamnazio memorie. Non è sicuramente però il caso di Medardo Rosso questo. Gli altri venuti prima di Rosso e dopo Canova li vedremo nei prossimi appuntamenti in caso. Medardo Rosso si trova in linea con il pensiero di Baudelaire ma a differenza di quest'ultimo crede in una scultura diversa, nuova e una scultura dal punto di vista unico e che vuol far dimenticare la materia. I suoi scritti sono molto chiari su questo discorso. Rosso sosteneva nei suoi scritti che non si gira intorno alla statua come si gira intorno a un quadro perché non si gira intorno a una forma per coglierne l'espressione, come non si gira intorno a un quadro in effetti. Nulla è materiale nello spazio. Così concepita l'arte è invisibile. Il bello risiede nel fatto che tutto ciò che scrive nei suoi testi è quanto Rosso riesce a portare nella pratica reale della scultura. Nella prima metà degli anni 80 dell'ottocento a Milano lo scultore riesce a fissare non l'opera con l'atmosfera che lo circonda ma l'impressione. Infatti lo stesso titolo dell'opera Impressione d'Omnibus del 1884 mostra un gruppo di viaggiatori colti in un moto ondeggiante, fusi in un'unica immagine attraverso una modellazione rapida. Sembra un effetto tipicamente pittorico questo. Rosso dialoga in quest'opera con il vagone di terza classe di Domier. Nell'ultimo decennio dell'ottocento Rosso risiede a Parigi. Qui raggiunge i risultati sorprendenti. Le sue opere, le sue sculture entrano in sintonia con i dipinti di Cézanne, di Monet e di Degas. Sculture intitolate Conversazione in giardino, Paris la Nuit, L'uomo che legge, oppure un'opera singolare, Il Bookmaker. Mi viene in mente, osservando le sue sculture, che queste figure sembrano apparire improvvisamente per poi scomparire da un momento all'altro e poi riapparire nuovamente all'improvviso. Il Bookmaker entra in piena sintonia con la pittura degli scapigliati lombardi come Cremona e Ranzoni, ma anche con lo scultore scapigliato Giuseppe Grandi. Un fremente di venire caratterizza il tocco delle superfici, una figura che emana una luce vibrante. Questa piccola statuetta, un gesso ricoperto di cera, si trova al MoMA di New York, mentre un'altra versione del Bookmaker in bronzo si trova alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Il soggetto in questione è un personaggio elegante su un piano inclinato, con un cilindro, un abito borghese lungo tipico del tardo ottocento anglosassone, il panciotto e la camicia. Si tratta di un mestirante del gioco d'azzardo. Nella mano all'altezza del ventre tiene un oggetto non definito. Forse si tratta di un foglio dove sopra ci sono scritte le scommesse e attende l'esito dei giochi prima di dover distribuire le vincite. Il soggetto sembra essere la traduzione figurativa di alcuni personaggi che vivono nelle strade delle grandi città europee di Honoré Dommier. Rosso impiega materiali poveri, facilmente deperibili, come ad esempio la cera, una cera sensibile alla luce che scorre sulla figura e quindi materiale ideale per Medardo Rosso. La figurina dinamica rafforzata dal taglio obliquo viene praticamente assorbita dalla parte inferiore. Il tema dell'opera, antiaccademico, è di grande originalità, dato che forse non si trova altra opera prima di questa che raffigura lo scommettitore. La figura inclinata inoltre è marca del maestro di Medardo Rosso, poc'anzi citato Giuseppe Grandi, esponente della scapigliatura Lombarda. Rosso converte con risultati di rara bellezza l'impressionismo alla dimensione plastica. Con lui la pratica del bozzetto si eleva a genere alto. Artista ribelle contro ogni tipo di monumentalismo e opere fatte per durare in eterno, Rosso era anche un appassionato di fotografia e di questo mezzo l'artista aveva una concezione diversa dalle solite, ovvero non di fermare il tempo e immortalarlo per sempre. Rosso credeva nella fotografia come mezzo espressivo di vitalità. Gli eredi di Medardo Rosso saranno Rodin, ad esempio l'opera Monumento a Balzac e debitrice del bookmaker, e sicuramente Boccioni. Lo sviluppo di una bottiglia nello spazio sembra essere strettamente legata a questa scultura di Rosso. Visto che abbiamo parlato di Damnazio Memoria, poc'anzi colgo l'occasione allora per ricordare una cosa, che è la bellezza salverà il mondo. Avete già sentito tante volte questa frase, ma fatela rivivere ogni giorno, perché il più grande peccato è dimenticare, e l'uomo dimentica. Cari amanti dell'arte, un caro saluto e come sempre, buon'arte a tutti!